Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento un ferro da stiro a caldaia. Come potete vedere, guardate, è super super bello. Ringrazio l'azienda Cecotec per avermi omaggiato di questo ferro da stiro. Stiamo parlando del Fast & Furious 8060 Ultra. Ha una base in ceramica Turbo Slide Pro che non attacca a nessun tipo di tessuti. Come potete vedere ha la chiusura per non farlo muovere, la rotellina per le varie temperature, il sottomanico dove far uscire il vapore, qui il tasto di accensione e di spegnimento, le varie icone dove segneranno se manca l'acqua, se è acceso, se ha vapore. E che dire, è un ferro da stiro bellissimo, è un 3000 watt, è un 15 bar di potenza. Questo è il vano, diciamo, dove mettere l'acqua che va un litro e due, mi pare, di acqua. Quindi una stiratura continua ed ha un vapore veramente che vedrete all'ultimo. 750 grammi di vapore ogni volta che spingiamo il tastino sotto il manico. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Grazie. E 175 grammi di vapore continuo. Fatevi un regalino di Natale. Giù vi lascio nell'info box o in descrizione come volete chiamarlo. il link dell'azienda CECOTEC. E se aggiungete anche il mio codice sconto quando comprate, se comprate la cucina di Cassacrizia, riceverete il 5% di sconto ulteriore allo sconto che loro fanno. Ecco qui, mio marito allo stiro. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando tantissimi like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!